Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, questo è 7 in punto e questa mattina parliamo di uno dei settori che è stato, non vorremmo usare un termine eccessivo, ma messo KO per usare un'espressione sportiva da quella che è stata la pandemia che continuiamo a vivere ed è un settore che vive tuttora nell'ansia che magari la situazione possa evolvere in una maniera che ci riporti indietro nel tempo, speriamo di no. Parliamo questa mattina con un graditissimo ospite che abbiamo sempre l'onore di avere con noi, sempre, in questi anni non è potuto venire perché l'attività purtroppo era ferma. Andiamo dunque a ringraziare di essere con noi e a salutare Stefano Eros Macchi. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, sai, è quasi paradossale mettere come titolazione Stefano Eros Macchi Teatro dell'Inutile. Avete anche scelto questa denominazione che per carità è una denominazione ormai estremamente conosciuta, ma che va contro tutto quello che è il senso del teatro, perché se c'è qualcosa di costruttivo è il teatro, per cui di tutt'altro che inutile. Il gioco era proprio lì. Scusami, aperto e chiuso a parentesi. Stefano è venuto a trovarci non solo per parlare della stagione che finalmente, speriamo, riparte, ma anche per parlarci di un'iniziativa che, come ci diceva il nostro ospite, prima ancora di andare in onda, diciamo è maturata in questi anni un po' difficili, ma ormai era in cantiere da tempo. Sì, sì, era in cantiere da tempo. Il fatto di lanciare un nostro manifesto, ma cosa vuol dire? In poche parole è da tempo che noi volevamo lanciare il nostro modo di agire, di modo che la comunità che ci circonda o quella che ci circonderà abbia un qualcosa sul quale appoggiarsi, cioè abbia uno schema, dei dettami e possa capire com'è il nostro modo di agire, di modo che nel momento in cui decida di entrare a far parte della nostra comunità, lo faccia in maniera consapevole. Stiamo parlando di comunità e grazie a Stefano perché ci ha dato in là, insomma, anche nel nostro titolo abbiamo sottolineato il concetto di comunità. Non vi siete mai fermati, come ci raccontavi, perché esiste comunque un'accademia che è una bellissima realtà, che è andata un po' anche controcorrente perché fortunatamente quando tutto si era fermato voi avete ugualmente proseguito. Sì, noi abbiamo avuto, insomma, fortunatamente, ora vabbè, ovviamente come dicevo prima, anche levati i tre mesi iniziali del 20, dove ovviamente eravamo chiusi come tutti quanti, poi invece siamo riusciti a riaprire perché noi rientrando tra le attività ricreative e formative per i giovani in qualche modo siamo riusciti a rimanere aperti e questo è stato una cosa molto buona, sicuramente da una parte per noi perché ci ha permesso di poter lavorare, perché l'attività performativa era ovviamente ferma, ma dall'altra parte è stata una cosa molto importante perché essendo noi rivolti ai giovani eravamo quasi l'unica attività che loro potevano frequentare, quindi appunto tornando al concetto di comunità, la nostra comunità ha potuto continuare a relazionarsi, a vivere in qualche modo. Caspita, no, è molto bello che l'attività di un'accademia sia proseguita anche a dispetto di quelle che inevitabilmente saranno state le misure di sicurezza adottate, perché caspita, vabbè insomma non lo vogliamo ribadire per l'ennesima volta, però se c'è un ambito nel quale la sicurezza è particolarmente, si dice attenzionata, è orribile come tema, diciamo vi si presta particolare attenzione, rimane proprio l'ambito dello spettacolo, del teatro, insomma li hanno fatti chiudere, bastava mettere, vabbè, un posto sì, un posto no, vabbè, chiusa un'altra delle tante parentesi che ci piace aprire. Stefano, andiamo nello specifico di questo manifesto, voi avete usato una forma anche molto efficace che è quella dell'acronimo, con ogni parola dell'inutile che introduce, ci sembra un concetto. Sì, ma noi più che altro ci siamo intanto sempre nel gioco e anche un po' nella cultura, fra virgolette, ci siamo fatti ispirare dal movimento futurista, un po' dai loro manifesti, quindi innanzitutto uno dei nostri ragazzi dell'Accademia che si chiama Pietro Frosi ha fatto questo bellissimo disegno proprio a collegare l'idea del movimento e infatti si può vedere che da una parte c'è un ingranaggio e dall'altra è la gorgera teatrale che è il simbolo che ci contraddistingue e poi, insomma, fatto in maniera, noi gli abbiamo chiesto di sviluppare questo concetto legato al futurismo e lui ha tirato fuori questo disegno meraviglioso e lo ringraziamo. Permetti Stefano che magari se il nostro validissimo regista Andrea Vernier ha voglia un po' di rompersi le scatole, intanto lo mostriamo in questo foglietto, grazie, aspetta, vediamo se riusciamo questo disegno di cui stava parlando Stefano, allora scusa Stefano, potresti ridescriverlo? Sì, allora intanto fatto da Pietro Frosi che è uno dei nostri ragazzi e poi come dicevo c'è quest'idea di movimento, di queste persone in movimento e c'è l'ingranaggio che va su quell'altro grande ingranaggio che però è una gorgera, la gorgera è un simbolo del teatro e per quanto ci riguarda è il simbolo della nostra accademia. Grazie ad Andrea e a Stefano per la fattiva collaborazione. Senti, ci sono parole che restano perché si parte con una parola come lavoro, cioè è una parola che ti tocca nel profondo perché siete anche voi consapevoli che quello che è successo, l'ambito del lavoro lo ha toccato in una maniera addirittura dolorosa se non tragica. Sì, sì, ma noi ci tenevamo a parlare, a tirare fuori questi termini e queste parole e anche questi ideali proprio per far capire e ribadire per l'ennesima volta, ma diciamo che ci interessa poco fare polemica. Quello che ci interessava molto era cominciare a esternare la nostra poetica e la nostra politica e soprattutto ci interessa far capire che la cultura si deve occupare della cultura. Stop! Non si deve rivolgere a destra, a sinistra. Bisogna cominciare ad agire, infatti il nostro manifesto spinge al movimento, ma che vuol dire muoversi? Dobbiamo agire, dobbiamo smettere di o essere troppo autoreferenziali o in qualche modo aspettare che le cose arrivino da qualche altra parte e per agire ci sono vari modi, sicuramente uno dei modi è di diventare, cercare di diventare un punto importante per la propria comunità e portare anche la propria comunità a muoversi, ispirarla. Questo è quello che noi abbiamo voluto fare, è quello che ci piacerebbe fare. Sicuramente un'altra cosa molto importante, insomma qui mi è capitato di dirti più volte, è che noi crediamo molto che il teatro sia importante da un punto di vista formativo ed infatti quello che noi facciamo è questo, noi ci teniamo moltissimo per esempio ogni volta a dire che la nostra accademia è un'accademia non tanto performativa quanto formativa, ora è vero che si fa teatro quindi si performa ovviamente, però l'idea è di utilizzare il teatro per altro e quindi con questo manifesto era palesare questo nostro modo di agire. Capiamo. Allora, informazione di servizio, Stefano Erosmacchi oggi è qui a parlare del teatro dell'inutile, un onore anche a chi non c'è, nel senso un saluto anche agli assedi, cioè Marta Bettuolo che è l'altra metà anche nella vita di Stefano e che rappresenta appunto questo universo. Certo che siete bravi, fate tutto voi. Siamo bravissimi anche perché essendo anche sposati siamo bravissimi. Appunto! Sì, sì, insomma, diciamo che dopo tanti anni insomma collaboriamo insomma e comunque sì, ecco, siamo molto contenti di questo passo. Per noi, ripeto, è una cosa che volevamo fare già da tempo, poi insomma la pandemia ha un po' bloccato quest'idea, abbiamo fatto altro, ma ha bloccato quest'idea, ma adesso ci sembrava anche il momento giusto per uscire, per rilanciarsi, per dare questa idea di movimento. Ecco, questa è una cosa la quale teniamo moltissimo. Il concetto del movimento è veramente il fatto di rimboccarsi le maniche, creare una realtà e una comunità attiva e andare verso, diciamo, verso il futuro, insomma, verso il domani. Senti, un quesito stupidotto, non esiste un'età per cominciare ad entrare nel mondo del teatro, cioè la vostra accademia non è che abbia un limite, avete magari anche dei ragazzini ini ini? Beh, noi partiamo dagli otto anni. Ma caspita! Noi partiamo dagli otto anni. Noi praticamente li prendiamo dalla terza elementare, per intenderci, al diploma superiore, insomma, quindi dagli otto ai diciannove. Questo è il corso. Poi abbiamo ovviamente anche gli adulti, la fascia adulti, però, anche i senior, però diciamo che il percorso dell'accademia è rivolto ai ragazzi. Certo. Ma comunque, insomma, questa, come si usa a dire al giorno d'oggi, trasversalità anagrafica indica proprio anche una voglia, perché è anche un mettersi in gioco, no? No, è assolutamente un mettersi in gioco, ed infatti questo è il valore aggiunto del teatro. È un mettersi in gioco, un conoscersi, un imparare a superare i propri limiti, le proprie debolezze, insomma, ma queste cose, insomma, si sanno di fatto, però, insomma, è bene ribadirle, ma sicuramente questo è il valore aggiunto del teatro e l'importanza anche formativa del teatro. Aspita, altro che... Stefano, entriamo nello specifico di quella che dovrebbe essere la nuova stagione, 2022. Allora, finalmente, beh, anche qui i teatri hanno già riaperto da tempo. Noi per scelta non abbiamo aspettato, perché volevamo capire bene com'era la situazione, non ci sembrava anche, se vuoi, ancora anche giusto ripartire, nel senso volevamo un attimo, anche perché, anche perché, devo dire, noi ovviamente avendo uno spazio off, uno spazio che ha una settantina di posti in tempi normali, quindi in questi tempi sicuramente posti ridotti, però, insomma, sicuramente uno spazio off, insomma, abbiamo detto aspettiamo un attimo e, infatti, avremmo dovuto ricominciare addirittura a gennaio, però, vista la situazione, abbiamo ancora ritardato, inizieremo, inizieremo l'11 di febbraio. Abbiamo quattro appuntamenti, adesso fa febbraio, marzo e aprile e abbiamo quattro appuntamenti e sono tutte cose, in parte sono produzione mie e di Marta e poi altre sono produzione comunque dei nostri ragazzi, ovvero sono costole del Teatro dell'Inutile e per la prima volta, invece, faremo una produzione dove alcuni attori, giovani attori, attrici del teatro, lavoreranno con noi sul palco, quindi faranno uno spettacolo con noi. Quindi, ecco, ci piaceva ripartire, ci piaceva ripartire con tutte cose nostre, in qualche modo, era un segnale di ripartenza e anche un modo per far, per mettere in gioco i nostri ragazzi. L'ultimo spettacolo che faremo è uno spettacolo scritto da Zaccaria Gazal, che è uno dei nostri ragazzi, l'ha scritto, lo dirigerà e gli attori saranno gli altri ragazzi della compagnia giovani. Che bello, no? Quattro appuntamenti, sì, insomma, da non perdere. Stefano, diamo anche un'indicazione sempre di servizio, dove si trova proprio fisicamente il vostro teatro? Il teatro in via Agordat, a Padova, in zona prima di andare verso Chiesa Nuova, insomma. Sì, insomma, per cui è una zona anche facilmente raggiungibile, è una delle porte della città di Padova, molto interessante. Sì, diciamo che quello di cui tu sei venuto a parlarci, diciamo, è un manifesto, adesso per carità, non ti vogliamo celebrare in maniera eccessiva, che potrebbe essere il manifesto di qualunque realtà teatrale, perché voi tirate in ballo degli elementi, insomma, I come istruzione, T come teatro, U come umano, L come ludico, c'è anche un bilanciamento delle situazioni. Assolutamente. Come dicevo prima, noi intanto parliamo per noi, poi chissà, però insomma intanto parliamo per noi. Come dicevo, è un manifesto che vuole mostrare quali sono le nostre linee guida. Un'altra cosa importante che faremo è anche quella di noi, ovviamente, come teatro e come utilizzando lo strumento teatro, cerchiamo di combattere la povertà educativa, ovviamente. E noi ci schiereremo con tutte quelle realtà che combattono la povertà educativa, l'abbiamo sempre fatto di collaborare con altre realtà, ma adesso abbiamo deciso di entrare in campo anche per quanto ci è possibile, anche se necessario, con le nostre possibilità economiche, cioè nel senso anche di supportare economicamente quelle realtà che si occupano di combattere la povertà educativa e che magari hanno bisogno di un aiuto. Questo non voglio dire che il teatro dell'inutile chissà che cosa farà, farà quello che potrà, però ritorno a quello che dicevo prima, cioè la cultura si deve occupare della cultura, quindi esse serve anche mettendosi le mani in tasca. Questo per noi è una cosa molto molto importante, fa parte anche di quel concetto che noi portiamo avanti dal primo giorno, anche che la cultura deve avere una visione più aziendale, ma aziendale ovviamente legata al sociale, perché la cultura di quello si occupa, quindi bisogna secondo noi cominciare ad agire in tutti i campi e come dicevo adesso, poi chiudo, anche da un punto di vista, se è possibile anche economico, perché molto spesso la cultura sottolinea dei temi o mette sotto la lente di ingrandimento anche dei temi importanti, sensibilizza su questi temi importanti, però a volte io ritengo che i temi di cui noi parliamo magari hanno bisogno anche di un aiuto concreto e quindi se si può, con quello che si può, può essere anche giusto farlo. Stefano, ma allora il discorso dello spettacolo in streaming, di quello che la rete ha comunque rappresentato in momenti in cui diversamente non si poteva fare, il teatro dell'inutile come si è mosso? Ah, noi lo streaming non l'abbiamo attivato, nel senso noi non abbiamo, insomma i nostri spettacoli di cui abbiamo ovviamente video e tutto quanto, non abbiamo mandati, non abbiamo neanche fatto degli spettacoli che mandavamo in streaming, insomma abbiamo fatto questa scelta appunto perché il teatro per noi è solo ed esclusivamente dal vivo e non può esistere altra forma. Poi non entro nel merito delle scelte di fare in streaming che spesso sono state scelte anche economiche di fatto, perché per molte realtà in qualche modo era un modo comunque di monetizzare, ovviamente perché è ovvio che poi uno deve valutare vari aspetti e noi abbiamo fatto questa scelta che è stata una scelta più etica, diciamo che economica, nel senso che ovviamente sarebbe convenuto anche a noi farlo, solo che noi abbiamo fatto questa scelta etica. Senti, insegnare teatro nel terzo millennio anche di fronte a dei giovani che non è vero che non siano così ricettivi, cioè la tua esperienza qual è? Tu hai parlato dagli 8 ai 18, per cui hai proprio quella fascia di sviluppo molto importante, anche che atteggiamento hai colto in questi ragazzi che si avvicinavano al teatro, per loro cos'è teatro? La generazione ci scusino i ragazzi del TikTok come si dice, che è tutt'altro che un approfondimento, invece ci si trovano a riflettere su quello che fanno, a pensare e a muoversi? Ma insomma io non so se siamo fortunati o no, però i ragazzi che vengono da noi sono tutti ragazzi che sono chi più chi meno, però insomma pronti a mettersi in gioco, pronti a mettersi in discussione, c'è chi viene perché magari gli piacerebbe nel futuro o c'è chi viene semplicemente perché appunto gli piace o perché per fare amicizia o perché si trova in un gruppo in cui si diverso, ma sono varie le motivazioni, però devo dire che sono sicuramente ragazzi aperti, è vero che considerando che oramai noi esistiamo da 11 anni, quasi 12, è il 2010, quindi quasi 12 con i ragazzi, devo dire che per esempio la presenza nelle loro mani del cellulare è andata aumentando negli anni, però devo anche dire che, ripeto almeno parlo per i nostri ragazzi, quando si lavora spariscono, si sta dentro, quelle due ore che si lavora si lavora e basta insomma. L'incavolatura di una persona che sta facendo il suo lavoro sul palco e sente dalla platea il classico dream dream di un cellulare, come superare quei momenti, ci sono state delle situazioni anche se vuoi abbastanza, chiamiamole divertenti, ma non sempre l'hanno presa bene i diretti interessati, l'attore che sente squillare il telefonino, a parte la mancanza di rispetto. E' l'uomo questo, succede, succede, a volte anche, a noi una volta, racconto questa aneddota, a noi una volta è successo che Marta stava facendo un suo monologo e a un certo punto parte un bip 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 bip, lei si ferma e guarda con cattiveria anche questo signore e va bene, finisce lì, alla fine scopriamo, questo signore è venuto a scusarsi in camerino ma si scusa e dice scusate, siccome sono cardiopatico era la sveglia per prendere la pillola e quindi ci siamo sentiti morire anche noi, ci mancava, però insomma ecco, però succede, si può, posso dire una cosa, quello che personalmente mi disturba di più non è lo scudo del cellulare perché te lo puoi scordare, è acceso, è quando vedo la faccina che si illumina perché stai guardando il cellulare, ecco quello mi dà noia, perché se squilla perché te lo sei scordato, magari sei entrato di corso, ok, però guardare il cellulare e soprattutto farlo spesso in teatri come i nostri che sono teatri piccoli, insomma ripeto, un'oretta si può anche sopportare, anche se uno si sta annoiando voglio dire, ecco quello è una cosa che a me dà più noia, più dello squillo, insomma. Sì, 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 però in questa circostanza, poveretto, c'è la persona che ha determinate decisioni, deve essere stato sì, terribile anche nella botta e risposta e controprova di questo tipo di situazione, mamma mia. Per cui, Stefano, ricapitolando, voi adesso come capienza, che limite avete? Perché sai, adesso sui limiti si capisce e non si capisce, diciamo che, allora, noi facciamo così, noi abbiamo tra i 70 e gli 80 posti, perché noi abbiamo delle gradinate, quindi non abbiamo posti singoli, quando si è nella normalità, noi adesso perché ci sia aria fra le persone e ci sia, insomma, una situazione gestibile, non ne prendiamo più di 50. Quindi più di 50 riescono a stare distanziati e quindi, insomma, riusciamo a stare in una situazione accettabile. Senti, Stefano, altra domanda che si impone di questi tempi, è meglio prenotare il biglietto? Vabbè, in questi tempi è obbligatorio. Green pass alla mano, ovviamente. Ovviamente, o mascherina dentro, quando entrano c'è gel, insomma, tutto quello che ci deve essere, c'è. Sì, ma i luoghi di spettacolo, rivadiamo, sono luoghi in cui c'è un'attenzione assoluta perché lo spettatore diventa il protagonista di quello che stai facendo. Sì, poi in teoria lo spettatore dovrebbe stare zitto in una direzione, quindi voglio dire, in teoria... Sì, vi è anche capitato di allestire degli spettacoli, non diciamo interattivi, ma insomma, magari con una compartecipazione da parte della platea. ti parlo di un'idea un po' arcaica, magari. No, 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 beh, c'è capitato. A noi diverte, a noi spesso diverte in qualche modo sorprendere il pubblico, quindi è vero che questa è un'idea arcaica, però è un'idea arcaica che oggi magari non c'è più, quindi insomma, a volte facciamo degli scherzi anche al pubblico. Proprio così interattivo noi facciamo uno dei nostri primi spettacoli che si chiamava Fuori Piove, che era la storia del matrimonio mio e di Marta. Perché, vabbè, quel giorno è successo di tutto e quindi abbiamo detto, facciamo lo spettacolo su questa cosa. E avevamo ricreato in teatro la chiesa, quindi il pubblico erano i nostri testimoni e posizionati lì. Anche come posizione. Sì, anche come posizione. Quindi lì era molto interattiva, anche se di fatto la gente non partecipava, però si sentiva malissimo l'idea di trovarsi seduta sul palco con noi che passavamo in mezzo. Sì, anche questo forse è un rettaggio che potremmo riuscire a superare. Insomma, il teatro è terapia, è terapia anche il mestiere che sta facendo chi ti parla, per cui tutto quello che porti in qualche modo, chiamiamolo, è brutto come termine, ad una ribalta, confrontarsi con gli altri, perché anche noi, bene o male, davanti a quell'occhietto della telecamera sappiamo che, insomma, dietro per carità, non parliamo di pubblici oceanici, però insomma, in ogni caso anche il confrontarsi con gli altri è sempre molto stimolante. Come dicevi prima, è proprio il sentire, è un po' come capita se vuoi con lo sport, vuoi mettere a vedere un evento seduto davanti alla tv ed essere lì, vedere il sudore dell'atleta, lo sforzo, il gesto. Ma anche perché, ripeto, quando si è spettatori, tu stai guardando qualcuno che fa qualcosa, ma in realtà stai prendendo anche l'energia e le emozioni di tutti quelli che ti sono accanto, che poi, insomma, queste energie possono essere distruttrici a volte, però diciamo che in genere no, ma fai il pari quando tu, che ne so, guardi qualcosa di divertente, tutti ridono, tu ridi, ma ridi anche del ridere comune, o ti emozioni dell'emozione comune e questo c'è solo se siamo lì, solo se c'è la presenza ed è per questo che veramente noi crediamo così tanto, ma lasciamo perdere il discorso del teatro in sé, ma crediamo così tanto nella cultura, perché la cultura è veramente qualcosa di fondante nell'essere umano, non è una cosa della quale si può prescindere e quindi è folle accantonarlo, ma non solo è folle accantonarlo, è impossibile accantonarlo, cioè banalmente, noi facciamo teatro, cultura quotidianamente, nel nostro vivere comune, quindi non è una cosa che si può accantonare, ma questo tutti noi, quando tu sei marito è il ruolo del marito, al lavoro è il ruolo del lavoratore, a scuola sei l'allievo o il professore, ma sono tutti ruoli, queste cose che sto dicendo non è che sto scoprendo l'acqua calda, sono banali, però quello che a me da noia è che sono cose banali, sono cose che sappiamo tutti, sono cose che facciamo tutti, quindi il passaggio successivo potrebbe essere che la cultura è l'uomo, cioè è qualcosa che è dentro l'uomo, quindi tu come puoi estirparla, non la puoi estirpare, allora cominciamo a dargli l'importanza che ha, ed è questo un po', ma è tangibile, quello dico, quando tu sei in mezzo a tutti che ridono e ti viene da ridere, è tangibile questa emozione, quindi stiamo parlando di qualcosa di tangibile, non di intangibile. No, no, chiarissimo, no sai, c'è anche delle domande che ti facevamo durante la nostra chiacchierata, è pensare sempre il teatro, che è un teatro off, ma è comunque teatro, scusa la considerazione se vuoi un po' banale, ma è comunque una capacità di mettersi in discussione che tanti strumenti a nostra disposizione oggi non ci consentono di fare, cioè è una fruizione passiva, anche il device, lo strumento elettronico all'avanguardia tecnologica, cioè ci vede come spettatori passivi, non c'è una presenza vera e propria, o ci sbagliavo? No, io credo che oggi attività come le nostre, allora fino a tanti anni fa era magari per appassionati, era svago, oggi attività come la nostra stanno diventando necessarie, quindi condivido assolutamente questo fatto, cioè sono diventate e devono diventare delle attività necessarie, perché si sta perdendo tutta quella parte di socialità che vuoi nuovi mezzi, vuoi la situazione che stiamo, tantissimo, è inutile colpevolizzare qualcuno, è anche il mondo che va avanti e va in una direzione, però insomma se andando in quella direzione vediamo che ci vengono a mancare delle cose, dobbiamo andare a fare qualcosa perché quelle cose ci siano, no? Comunque l'apolito dell'Accademia di cui parlavamo con Stefano, ci sembra che i risultati siano molto incoraggianti, ci hai parlato di uno degli allestimenti del vostro programma che è a cura di uno dei ragazzi dell'Accademia. Sì, beh, noi abbiamo la Compagnia Giovani, la Compagnia Giovani che esiste ormai da 4 anni, 4-5 anni, sono i ragazzi che hanno finito il nostro percorso appunto dagli 8 ai 19 e si sono diplomati e che continuano a stare con noi e fanno tutta una serie di attività, nel senso che far parte della Compagnia Giovani vuol dire, e torniamo al manifesto, vuol dire far parte di questa comunità, quindi vuol dire sì fare, magari se hai scritto uno spettacolo quindi recitare con noi, vuol dire sicuramente fare qualcosa di artistico ma vuol dire anche essere attivi, quindi fanno assistenza nei laboratori, durante il periodo della pandemia si sono occupati di seguire tutte le cose sui social, gestiscono le pagine sui social, quelle appunto magari più legate alla loro età perché magari riescono a parlare meglio no? Quindi la nostra Compagnia Giovani è uno dei nostri motori e oltretutto ovviamente venendo da un cammino artistico arrivano anche, quindi in questo caso ha scritto quest'opera, ne farà la regia e gli altri ragazzi sono i suoi attori. Senti siamo convinti che comunque l'approccio di un ragazzo che abbia vissuto l'esperienza dell'Accademia anche in un contesto come quello dei social sia un approccio, adesso non diciamo speciale, ma effettivamente è un tipo di approccio che è valorizzato da un'esperienza che è legato a una finalità, è legato a una finalità, è vero sì, anche la parola finalità, mancava la F perché se no ci sarebbe stato bene, la F di finalità, per cui Stefano alla fine di questa nostra conversazione ricordiamo il vostro programma che comincia l'11 di febbraio, no? E quindi ci sarà Marta Bettuolo in scena con Peggy, questo nostro spettacolo su Peggy Guggenheim. Straordinario, possiamo farlo. Grazie Paolo, facciamo. Grazie. Poi ci sarà uno spettacolo invece per la regia mia e di Marta, ma con la compagnia giovane che è La Croce. Poi ci sarà questa nuova produzione in marzo, questa nostra nuova produzione, quest'altro La Croce è il 18 di febbraio. L'11 di marzo c'è questa nuova produzione che si chiama Le donne di Monica, che appunto è legata a Simone de Beauvoir e a Monica Piazzetta che è una pittrice e quindi lavoreremo con delle sue opere. e poi chiudiamo ad aprile, adesso mi sfugge la data, mi pare l'8 aprile, con quest'altra opera di Zaccaria Gazal che chiude la nostra piccola stagione, una stagione di ripartenza. Scusate Stefano, non ti abbiamo domandato, online immaginiamo che digitando Teatro dell'Inutile, magari anche sbagliando rispetto alla scrittura. C'è il sito, c'è tutto quanto. C'è tutto quanto, diciamo. Teatro dell'Inutile. Tutto attaccato. Tutto attaccato, ecco, qui non ci sono né apostrofi né altre forme. Stefano, siamo proprio alla conclusione a questo punto, noi nel ringraziarti di essere stato con noi, ci auguriamo di poterti rivedere anche prima di quanto non sia successo rispetto alla volta precedente. C'è quello che invecchiamo qua, quindi bisogna già vedersi prima. Infatti, infatti, non hai tutti i torsi, indubbiamente. Grazie a Stefano Erosmacchi, di essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito, Setti Punto si chiude qui, vi rimanda ai prossimi appuntamenti. Grazie dell'attenzione e buona giornata. Grazie.